Ci sarà una live, questo che volevo dire Comunque alle ore 8 e mezza, sono in 22 Stasera ci sarà una live Ma non farò un video, mi dispiace, ciao ciao Quando non ci saranno i video ci saranno le live su Instagram e su Facebook Quindi andandovi a seguire sopra Instagram, sopra Facebook Che mi chiamo Ioana Guarna I sopra musicali che mi chiamo sia Mario Guarna che Ioana Guarna 02 Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale e 20 like per questo video E tante visual, ciao No vabbè, promessa, vi voglio tanto bene Vabbè, comunque Bye bye